Siamo alla seconda parte della nostra rassegna per questo lunedì 20 luglio. La cultura che piange, la scomparsa a un'età veneranda, 27 anni, di Giulia Maria Crespi che è stata la fondatrice del FAI, del Fondo Ambiente Italiano. Le eredità, i giornali, l'ambiente, una vita da zarina, la ricorda nell'inserto Il Caffè e la Nazione, dall'editoria alla tutela dei passaggi e dei monumenti con la fondazione del FAI, pioniera del biologico e una vita da raccontare. Lei che veniva definita da Montanelli quando era editrice del Corriere della Sera una dispotica guatemalteca, una malattia la spinze alla svolta ecologica. Lasciò proprio la guida editoriale del Corriere della Sera a metà degli anni 70 vendendo le sue quote ad Agnelli Moratti e poi a Rizzoli. Ma fondando proprio nel 1975 il FAI, il Fondo Ambiente Italiano che ancora oggi è un punto di riferimento all'organizzazione privata che protegge e restaura il paesaggio e i monumenti di tutto il paese. Qui nella foto con Franco Battiato, insomma un personaggio davvero monumentale che ha saputo creare un presupposto fondamentale, il FAI, per la valorizzazione dei patrimoni culturali e paesaggistici del nostro paese. Si parla anche di Urbino oggi nell'inserto culturale della Nazione Castiglione, la corte di Urbino, quando si parla di Urbino è inevitabile non pensare anche a Gubbio, Baldassarre nella città di Raffaello, a Palazzo Ducale uno spaccato della società del 500 e poi la polmonite dell'errore medico, il giallo sulla morte del genio, peraltro in età molto precoce, a poco più di 30 anni. Note dal cedro dell'Ateneo, rinasce la speranza. Qui siamo in Umbria, il concerto di Paolo Fresu doveva essere l'evento di chiusura di Umbria Jazz 2020, invece è diventato il segno della ripartenza, perché il jazz che entra nell'università vedrà protagonista il cedro gigantesco della piazza universitaria. Presente il rettore Liviere e il direttore di Umbria Jazz Gianluca Laurenzi tra il pubblico di questa speciale performance. E poi una curiosità di tempo libero, il lockdown ci ha abituato a occupare il tempo libero in maniera innovativa e tra le innovazioni quelle di cercarsi un'app con gli esercizi fisici da fare a casa. Allora la prova costume dove nasce? Dalla ginnastica in 7 minuti, la moda post lockdown. Tutti i passi per un circuito di esercizi ad alta intensità alla ricerca della forma perduta. Ci sono pure i consigli del personal trainer che dice possono farla quasi tutti, gli effetti si vedono subito. Insomma una buona notizia. Ma oggi la sport e apriamo la pagina sportiva è dominata in Umbria dalla notizia dell'esonero di Cerse Cosmi su cui torneremo stasera nel nostro TG in maniera approfondita. La prima pagina del quotidiano sportivo ovviamente apre con la Serie A col pareggio di ieri sera tra Inter e Roma frenata Inter-Roma pro-Juve Juve che stasera gioca al Juventus Stadium contro la Lazio può essere il match point, dice il quotidiano sportivo che si sofferma anche sulla giornataccia l'ennesima della Ferrari a ieri a Budapest umiliati e offesi così è troppo perché la Ferrari è addirittura doppiata dalla Mercedes Hamilton vince, accuse però contro la Mercedes e poi la notizia del giorno in Umbria come detto il Perugia esonera Cosmi torna a Oddo la decisione del Presidente Santo Padre dopo una runga riflessione all'interno clamoroso al Perugia via Cosmi torna a Oddo il commento di Cerse tacere è il mio ennesimo atto d'amore per il grifo, parole mai scontate e sempre intelligenti quelle del tecnico pontegiano l'ex pescaresa ha il compito di vincere anche per la conferma a tre giornate lo vedremo nel dettaglio tra poco per riuscirci oggi in campo, domani in ritiro i biancorossi arrancano volano invece le rivali Perugia che giocherà con Lentella venerdì prossimo Ternana ore decisive per l'allenatore salgono le quotazioni di Cristiano Lucarelli mentre in eccellenza il Sansepolcro riparte torna a mezzanotti Peluso saluti il Foligno e dice sarò per sempre falchetto nel basket Sissas Perugia rinnova la fiducia al coach Posti mentre Val di Ceppo ripresa dal gruppo storico e da Casuscelli volley benedicenti vola a porto maggiore da Mister Cruciani mentre per la Champions League la lista delle squadre arriva Perugia non sarà testa di serie Modena sì questo per la Nazione che lasciamo ma andiamo a vedere il Corriere dell'Umbria Grifo clamoroso eccolo qua clamoroso ribaltone esonerato Cosmo in panchina riacco Oddo per evitare il play-out e la retrocessione squadra piatta e peggior ruolino post-lockdown alla base della decisione della dirigenza vedete il ruolino che attende Oddo da qui alla fine tre partite ma sono tre partite che non può sbagliare perché c'è la trasferta di Entella la gara con il Trapani al Curi che sarà l'ultima e poi la trasferta in Laguna col Venezia che è una diretta concorrente così come il Trapani anche se il Trapani è ultimo del Perugia Venezia che egoisticamente i tifosi del Perugia sperano sia già salvo all'ultima giornata perché magari sarebbe meno motivato certo è che sono tre confronti al Cardio Palma per ovviamente ma ce ne sono tanti altri per salvarsi guardate venerdì non c'è solo Entella Perugia ma c'è Trapani Pescara che come dire è una sfida importante così come Venezia Juve Stabia andiamo a vedere Cerse che scrive su Instagram tacere per amore del Perugia insomma non commenta ma possiamo immaginare l'umore del tecnico di Ponte San Giovanni il campione del mondo ovvero Oddo ripartirebbe dal 4-3-2-1 confermato il ritiro di Coverciano ma da domani questo per il Perugia tutte le strategie delle fere siamo sempre sul Corriere è probabile conferma per 16-17 giocatori Diachite dovrebbe prolungare il contratto Lucarelli resta in pole position per la panchina nella lista che valuta Leone spunta anche Caserta tra le operazioni in entrata piace De Colle piacciono Barisic e Corazza intanto Gubbio Missione Gomez un ritocco per convincerlo il presidente notario d'accordo ma piccolo piccolo dice il presidente vuole allestire una squadra in grado di vincere il campionato ecco parole che forse a lui come dire poi creano aspettative un po' eccessive sull'arbitro di Verona dice si è infortunato davvero aveva una caviglia grossa come un pallone sappiamo che questa vicenda è diventata oggetto di indagine il prossimo campionato ripartirà il 27 di settembre così come la serie B mentre la serie A ripartirà il 20 vedremo ovviamente bisogna capire ancora che girone avrà il Gubbio chi sarà in serie C perché deve concludersi anche la serie B e vedremo insomma tante cose ancora da chiarire tennis vai Junior Perugia il sogno a 1 continua travolto pure il Lecce grande prova di Gerini che batte Ianni in settimana a squadra di Tarpani conoscerà il prossimo avversario per la moto Civ Junior Casagrandi con tardi Schuamagione gran rimonta in gara 2 questo per il Corriere che parla anche di Petrucci nella moto GP Rossi ritirato settimo bagnaia nono Petrucci a Erez nella prima prova del moto mondiale sono contento non mi sono arreso dice Dovizioso questo per il Corriere dell'Umbria noi chiudiamo dando un'occhiata al messaggero ripartendo dal Perugia Grifo Addio Cosmi Oddo per salvarsi ha deciso Santo Padre ieri mattina il tecnico Pescarese torna dopo l'isonero di gennaio Serse forse il ritorno è stata una suggestione per amore del Perugia resto in silenzio l'ex Lazio avrebbe un altro anno di contratto ma ora l'incarico Lampo tre partite in 13 giorni per evitare i play out decisione improvvisa del patron ma anche Goretti era preoccupatissimo per la situazione il condottiero disarmato era rimasto solo ormai da molto tempo dice Claudio Cagnazzo la truppa non lo ha seguito nella bufera come sarebbe stato necessario e poi Corrado Losito invece commenta il disastro 9K e solo 15 punti e per chi arriva non sarà semplice e chi arriva ed è un ritorno è appunto Oddo chissà che spogliatoio ritroverà Luca Relli a tutti i costi invece a Terni è nato e cresciuto nello stesso quartiere di Livorno di Patron Bandecchi ora lo vuole a Terni in caso di risposta negativa nel minore a Terni ci sono anche Scienza Grassadonia Zauri e Boscaglia intanto Narnese Colonnelli torna in rosso blu mentre Petrux regge malgrari dolori sul circuito di Erez arriva Nono andiamo a Foligno idea Mortaro dopo Peluso l'attaccante saluta i tifosi con emozione mamma mia non pensavo di affezionarmi così in due anni il direttore sportivo Cuccagna si trova alle prese con un mercato in salita adesso servono i veri big il Tiferno pensa in grande vuole la promozione addirittura in Serie C Trestina colpo e susì a Cannara difesa forte Grifo pressing su Gomez mentre Becchetti sbaffo e Filippini vanno via anche se hanno un biennale non sarà facile rompere ritorna il baseball al percorso verde di Perugia un po' di Cuba e lanciatore sessantenne mentre per il basket l'Atomica adesso è pronta per il salto di categoria ok Scarabottini e Vantaggioli ed è tutto per le pagine dei quotidiani per questo lunedì 20 luglio noi prima di salutarci diamo un'occhiata al meteo come detto è lunedì torrido quello che ci aspetta in Umbria diamo un'occhiata anche con il beneficio delle slide sereno qualche annuvolamento tra Gubino Gualdese Alto Tevere e la Valnerina in mattinata ma temperature che arriveranno intorno ai 33-35 gradi nel pomeriggio si diradano le nubi soprattutto in Alto Tevere resta sereno in tutta la regione situazione stazionaria anche in serata con temperature massime in aumento è tutto per questo appuntamento che andrà in replica fino alle 12.15 informazione che torna stasera alle 19.30 con il nostro TG ma voi continuate a seguirci anche su trgmedia grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto